e si fa la tripla caputana sono in bomba b sono entrando in bomba b ok c'è rimelo se hai aspettato un botto che qualcuno venisse da quella c'è la claymore ma dopo non si vedeva dov'è? non lo so dov'è il disinnesco abbiamo perso non c'è abbastanza tempo disinnescatore individuato disattivatelo che palle che fa dai perchè non l'ho ucciso madonna sito sito che pesura è rimatto è il dock e poi c'è un'altra affaccia dalla finestra non so se è stato stato quello dalla finestra quindi napoli udd ricarico mancano dieci secondi ma non c'è later è morto è morto dov'era ma vaffanculo che non ha innescato sto demente sto demente non hanno andato a innescare il nemico ti scoprirà la tua posizione è stata compromessa che è morto non la non 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 abbiamo altre camere lì dentro. Oddio sì ce n'è una. Arriva arriva. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Sono a secco. Ho spaccato tutte le botole. Questi mi vogliono far assare a me. Cazzo. Questa non moriva. Sì perché mi volevo sdragliare. È 10 secondi eh. Eh ce la farò mai. Non puoi andare a spedito lì eh. Eh ma tu fa nulla. Che fa Diego? Cioè cosa fa montagna? Fa un cazzo. Mi guarda le spalle credo. No. Sta cresciando è cresciando. Ah bello. Renta solo un operatore d'attacco. No no no. Cioè ci vedi? Metto di ammirare. Non passa nessuno. Gli sposti un attimo. Ho pure Mute sotto le scale c'è Mute. Ah ok non ci è passata. Non passa da lì. T4 eva i droni. Ah c'è un cazzo. Bene. Full team comunque. No 4. 4 kill. Lo scherzavo. Sì io ci sono io. Il bandit. Il die jaeger. 12 kill. Ma da parte di questo. Secondo me. Non ti passa molto bene. La vita. Eh ma siamo 4. Per forza perdiamo. In difesa in 4 è. Assurdo. È veramente. Sì è di sotto. Sì è di sotto. Sì è di sotto. Copritemi ricarico. Oddio. Eh ma ci siamo morti con la nabba. Il più nabba del team. Bravo. Ucchia di sinistro qua. È qui sopra. Minere le scale. No non lo push. Tanto c'è qua. No rimani là. Rimani là. Rimani là. Cioè non lo pushare. Rimani dentro volevo dire. Sì vengo qua. 15 secondi. Cosa vuoi fare? Da dietro. Aspetta aspetta. Aspetta 0 secondi. Rettano 5 secondi. Ok vai vai vai. Pusha pusha. Sta plantando. Oddio. Scusa allora. Scusa allora. Sì vedi qua. Scusa scuola capito. Ho capito. Madonna. Questi sono poco contenti. Oddio. Lo smarf fiero. Madonna mia. Non ci attigio con seconda. Certo devo stare a soffermi. Madonna. Madonna. Aveva tutta la vita. Beh vabbè ovviamente Mezz'ora a mirare Spunta quando tiro la granata Vero? Preciso Oh Vabbè grazie per avermi coperto comunque Ero dietro Vabbè abbiamo perso la partita Sicuramente si ammazzano in continuazione Devi recuperare il disinnescatore Blitz non sa giocare letteralmente Oh ti ti muori stronzo Che vita di merda Io merito la morte Merito la morte in piccato Merito di essere stuprato Che vita di merda Alla larga Non si è un povedibile Ah vabbè Devi recuperare il disinnescatore Ah vabbè Il blitz è veramente una roba assurda Ma che cazzo ne ha ucciso? Vabbè GG dai Ah vabbè Finocchio Che cazzo hai sentito? Come hai fatto a sentirlo? L'avevo visto L'avevo visto arrivare Ah ecco dicevo Madonna quanto soppro Granata frammentazione Ma che cazzo? Perché lo sentivo soppro Lo spacco Lo spacco tutto Madonna 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 Cotto La squadra d'attacco ha eliminato Il difenso bar Stavate sulle scale Non è vero Vittoria alla difesa Nemici eliminati Non è vero Ultimo attacco Cresci ad ascurarmi Dai no No In fondo al collitore Dove sono morto io Eh Volevo vedere Dove ho curato la curiosa Shhh Che lì Dai Cambio il caricatore Un operatore alleato rimasto Non pensavo No No Niente 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 Ah io gli mando messaggio Dai Questi kill Ho perso Tipo 19 Bello Non lo so